... Ennesimo incidente mortale, ieri sera lungo la strada statale 640 Grigento Caltanissetta, la vittima è Vincenzo Liarda, 47 anni di polizia generosa, ma residente a San Cataldo. La sua autovettura è stata travolta frontalmente da un camion che viaggiava in direzione opposta, ferito in maniera grave un rumeno che si trovava in macchina proprio con la vittima. Il servizio. Non si arresta la striscia di sangue che da venerdì scorso continua a macchiare le strade dell'Agrigentino. Ieri sera, quarto incidente mortale nell'arco di quattro giorni, questa volta verificatosi lungo la strada statale 640 al confine fra i territori di Canegatti e Serra di Falco. A perdere la vita è stato un uomo di polizia generosa, ma residente a San Cataldo, Vincenzo Liarda, di 47 anni. L'uomo viaggiava sulla sua Fiat Brava, che è stata letteralmente schiacciata da un camion con rimorchio, alla cui guida si trovava un uomo di Campobello di Licata, Salvatore Vella, di 40 anni, che viaggiava in senso opposto. Dei primi accertamenti effettuati dalla polstrada di Canegatti intervenuta sul luogo dell'incidente, sembra che il mezzo pesante che viaggiava verso Canegatti sia sbandato invadendo la corse opposta, scontrandosi frontalmente con l'autovettura guidata da Liarda. dall'interno dell'utilitaria si trovava anche un cittadino romeno, Ioan Liopano, di 37 anni, che è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Per Liarda, invece, non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto sul colpo per estrarre il corpo dalle lamiere dell'auto. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I carabinieri di Favara hanno arrestato un uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Si tratta di Giuseppe Stagno, 47enne, che deve scontare 7 anni e 2 mesi di reclusione per tentato omicidio e risse. I fatti risalgono alla fine del mese di giugno del 2010, quando a Favara, un fruttivendolo del luogo, venne colpito all'addome con un coltello da parte di una persona poi identificata dai carabinieri proprio in Stagno. La vittima per le lesioni subite era stata sottoposta ad un intervento chirurgico in ospedale. Successive accertamenti, i condotti dei militari dell'arma avevano anche consentito di identificare altri quattro soggetti coinvolti nella rissa, dalla quale era scaturito l'accoltellamento per interessi immobiliari tra i contendenti. Stagno, dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere di Contrada Petrusa. Un ordine di carcerazione è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Racalmuto, in esecuzione di un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo nei confronti di Biagio Campanella, 27enne del luogo. Il giovane deve scontare un residuo di pena di circa 20 mesi di reclusione per reati connessi agli stupefacenti. Campanella è stato accompagnato nella propria abitazione dove dovrà scontare la pena in regime di detenzione domiciliare. I carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro hanno arrestato Dan Negoizia, 34enne bracciante agricolo di origine rumena, per evasione agli arresti domiciliari. L'uomo infatti è stato rintracciato a Licata mentre si trovava in compagnia di alcuni suoi connazionali. Dan Negoizia è stato riportato nella propria abitazione e sottoposto ancora una volta ai domiciliari. Nella serata di ieri la polizia di Gela ha arrestato nella fragranza di reato di tentato omicidio Antonino Cammalleri di 76 anni. I poliziotti sono intervenuti attorno alle 18 in via Cremona a seguito della segnalazione di una avvenuta colluttazione. Giunti sul posto all'interno di un garage, i poliziotti hanno ritrovato tracce di sangue ed evidenti segni di una avvenuta rissa. Inoltre all'interno di un'autovettura i poliziotti hanno ritrovato indumenti femminili ed occhiali da vista intrisi di sangue. Certamente i successivi hanno consentito di rintracciare la vittima della violenza, una donna di 71 anni che era stata nel frattempo soccorsa da una vicina. La donna ha raccontato ai poliziotti di essere stata aggredita dall'ex coniuge che aveva trovato riparo al terzo piano della stessa abitazione. L'uomo che indossava ancora gli indumenti sporchi di sangue è stato identificato ed arrestato. I carabinieri della compagnia di Sciacca hanno portato a termine all'alba di oggi una complessa attività investigativa che ha permesso di sgominare una banda dedita all'estorsione. In manette sono finite nove persone. Il servizio. È stato il protagonista della commedia Il malato immaginario di Moliere a dare lo spunto agli investigatori per dare un'identificazione in codice al blizze condotta all'alba di oggi e che ha permesso di sgominare a Sciacca un gruppo dedito al racket dell'estorsione. L'operazione argante eseguita dai carabinieri della compagnia di Sciacca è il risultato di un'attività d'indagine scaturita dall'arresto del pregiudicato Benedetto Bondi che l'11 aprile scorso era stato bloccato mentre intascava la somma di 60 euro da un commerciante del luogo minacciandolo in caso di rifiuto di danni alla persona o all'esercizio commerciale ad opera di non meglio identificati personaggi del palermitano. Bondi come accertato dalle successive indagini faceva parte di un gruppo criminale guidato da una donna, Luisa Puccio, 49 anni, arrestata oggi insieme ad altre nove persone che nel giro di diversi anni era riuscita a distorcere alla malcapitata vittima la somma di circa 100.000 euro. La maggior parte delle somme sottratte al negoziante con l'inganno sarebbero servite per le costose cure sanitarie di un inesistente professionista personaggio inventato dal gruppo criminale. Gli arrestati sono oltre a Luisa Puccio, Giuseppe Beniamini, 54 anni, di Sciacca Donato Morrione, 53 anni, anche egli di Sciacca Benedetto Bondi, 24enne, Giuseppe Solarino, 60 anni, di Sciacca Abbe Saidudi, detto Alberto, 41 anni, tunisino Sottoposti invece alla misura cautelare del divieto di dimora Sciacca sono Silvia Cognata, di 27 anni, Giovanna Gambino, di 24 anni Maurizio Mistretta, 33 anni Il giudice monocratico del Tribunale di Sciacca, Roberta Nodari ha inflitto una condanna a 18 mesi di reclusione pena sospesa al saccenze Leonardo Sabella accusato di lesioni personali e calunnia l'imputato è stato anche condannato al pagamento del risarcimento dei danni in favore delle parti civili cioè Nicola e Paolo Piazza rispettivamente per la somma di 6.000 e 3.000 euro i fatti contestati all'uomo risalgono al settembre del 2008 è stata fissata per il 30 gennaio 2013 l'udienza per decidere sulla richiesta di giudizio immediato avanzata dalla procura della Repubblica di Sciacca nei confronti di Giovanni Melluso 56 anni, finito in carcere il 24 luglio scorso per sfruttamento della prostituzione ai domiciliari si trovano la moglie Raffaella Pecoraro di 47 anni ed i saccenzi Pellegrino Grisafi di 48 anni Stefano Giovanni Ernesto di 38 anni Fiamme nella notte a Campobello di Licata ad andare a fuoco è stato un furgone parcheggiato in una via del centro del paese sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì mentre le indagini sono affidate ai carabinieri della locale stazione Nella discussione sulla designazione dei componenti per le commissioni parlamentari in corso all'Assemblea regionale siciliana secondo il deputato regionale del Partito Democratico Antonello Cracolici c'è un vulnus regolamentare per l'ex capogruppo del Partito Democratico all'Arse che non è stato riconfermato si demanda ai gruppi l'indicazione dei membri ma ad oggi non mi è noto ha dichiarato il procedimento democratico con il quale il mio gruppo sta indicando i nomi Cracolici intervenendo ieri in aula ha chiesto al Presidente dell'Arse un sussulto di approfondimento suggerendo un rinvio di 24 ore il Presidente dell'Arse ha accolto la proposta di Cracolici rinviando la seduta ad oggi in una legislatura ci sono momenti durante i quali non bisogna sbagliare ha detto il Presidente dell'Arse me ne potrei lavare le mani rimettendo la questione al voto d'aula dunque per motivi di ordine politico ho deciso di rinviare la seduta il Partito Democratico e il gruppo di maggioranza di questa assemblea ha concluso dobbiamo semplificare i ragionamenti l'assessore regionale all'istruzione dalla formazione professionale nell'iscilabre insieme al Presidente della Regione Rosario Crocetti ha incontrato ieri i sindacati e le associazioni degli enti di formazione a Palazzo d'Orlean per affrontare le problematiche che hanno caratterizzato il sistema della formazione professionale siciliana sino ad oggi dal mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori alla poca trasparenza nelle procedure dei pagamenti per fronteggiare l'emergenza ha dichiarato Scilabre oggi ha dato disposizione affinché vengano emessi entro il 31 dicembre mandati di pagamento per circa 30 milioni di euro l'assessore ha concluso l'incontro annunciando la necessità di riformare l'intero settore voglio privilegiare il metodo della concertazione per ascoltare le proposte che vengono da tutti gli attori coinvolti nel mondo della formazione ha dichiarato la Scilabre proprio per questo istituirò un tavolo tecnico permanente con le associazioni degli enti e con le organizzazioni sindacali per dare una nuova legge sulla formazione professionale alla Sicilia è iniziata con un minuto di silenzio per ricordare le vittime del crollo delle due palazzine avvenute a Palermo la riunione del Consiglio Provinciale di Agrigenti riunitosi ieri sera nell'aula Silvia Pellegrino il Consiglio Provinciale ha poi discusso ed approvato il regolamento sul controllo interno seguito e quello contenente le modifiche al regolamento per il funzionamento della consulta dei migranti ad illustrare il nuovo regolamento sulla consulta è stato l'assessore Salvatore Tannorella in una provincia come quella agrigentina dichiarato in aula dove ogni giorno centinaia di disperati sbarcano sulle nostre coste per sfuggire alla guerra alla fame alla carestia e il regolamento ci consente di rendere operativa questa struttura che diventa uno strumento fondamentale dell'opera di integrazione ed assistenza poter disporre di una struttura quale la consulta diventa propedeutico sviluppare un organico servizio di accoglienza che vede coinvolte tutte le associazioni e i gruppi che operano nel mondo del volontariato è riunione lampo invece quella di ieri al Consiglio Provinciale di Caltanissette il Consesso ha avuto infatti giusto il tempo di approvare i verbali delle sedute precedenti dopodiché in aula sono rimasti soltanto 10 consiglieri quindi un numero insufficiente per poter deliberare sugli altri punti previsti all'ordine del giorno e così i lavori sono stati aggiornati ad oggi ha registrato la presa di posizione polemica del Presidente del Consorzio IGP da tavola di Canicatti Antonio Di Grigoli il tavolo tecnico convocato ieri al Comune di Canicatti per discutere dei problemi del settore agricolo Di Grigoli che ha abbandonato i lavori lamenta lo scarso interesse mostrato dalle istituzioni nei confronti del Consorzio sull'intervista Si è riunito ieri al Comune di Canicatti un tavolo tecnico convocato dall'amministrazione comunale per cercare di fare il punto sull'emergenza agricoltura l'emergenza generale che colpisce il comparto un tavolo tecnico al quale lei è stato invitato ma del quale non ha condiviso i contenuti anche perché in qualità di Presidente del Consorzio IGP non ha gradito il mancato interessamento da parte dell'amministrazione comunale nei confronti delle sorti del Consorzio Io credevo che questa amministrazione un po' dopo otto anni un po' perché avesse fatto esperienza un po' perché fosse si fosse resa conto partecipe delle problematiche mi aspettavo che fosse stata più sincera più spontanea ma invece vengo a constatare che non è assolutamente vive vive in un altro mondo detto questo potremmo ancora allungarci mi parlava del tavolo tecnico ieri che sono stato invitato però non so i contenuti perché per una questione di principio non si può abbandonare il Consorzio a se stesso e poi riempirsi la bocca con tavoli tecnici che non approdano a nulla non perché non serve il tavolo tecnico ma perché si fanno si fanno tante chiacchiere e pochi fatti di conseguenza non sono stato non me la sono sentita di partecipare a un tavolo tecnico dove le discussioni dove tanta gente da lune personaggi si siedono a quel tavolo per fare passerelle ho detto che se bisogna parlare di agricoltura prima bisogna parlare del Consorzio perché il Consorzio come ho detto sempre rischia di chiudere senza l'interessamento del Consiglio Comunale e che non c'è stato ad oggi solo promesse però ho visto i contenuti che non i fatti che non si sono manifestati a queste sue richieste a queste sue affermazioni qual è stata la risposta che i componenti dell'amministrazione le hanno riservate ma nessuna nessunissima risposta io da luglio ho parlato con il sindaco ho avuto un'interlocuzione sono stato paziente perché dico come ho detto prima mi aspettavo che questa amministrazione fosse più seria rispetto a quella che è stata negli anni precedenti ma invece vedo che c'è completamente il vuoto cioè il nulla dire sempre sì 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 però forse i discorsi entrano da un'orecchia e escono dall'altra senza poter fare niente avevo richiesto i contenuti avevo manifestato perché il consorzio vive un momento difficilissimo è vero che si deve mantenere con il proprio sostegno economico con il sostegno economico dei soci però ancora per una serie di circostanze che qui logicamente per mancanza di sensibilità mi sono rivolto all'amministrazione perché fosse vicina a queste problematiche per farlo vivere per poterlo effettivamente rilanciare questo non c'è stato perché ho chiesto una stanza per ce l'abbiamo la stanza però non è non è completamente edonia avevo chiesto un telefono fisso non c'è perché è da sei mesi sì 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 però poi ti vedi che c'è il nulla completamente a queste a queste condizioni sicuramente io io non non sono in grado dico con molta onestà mi alzo dalla sedia di presidente di presidente del consorzio affido a chi meglio di me può gestire una situazione senza soldi e senza in queste condizioni però voglio ribadire un'ultima cosa e finisco che se il consorzio si perde si perde un'opportunità per Canicchetti è stato approvato dal consiglio comunale di Agrigento nel corso della seduta di ieri la proposta di delibera relativa alle procedure connesse alla pianificazione delle opere pubbliche nel prossimo triennio attraverso questo provvedimento si procede prioritariamente al controllo del patrimonio immobiliare del comune di Agrigento si verifica la funzionalità e si interviene per adeguarlo agli obiettivi previsionali e programmatici dell'amministrazione una decina di famiglie di indigenti di Licata hanno scenato ieri una manifestazione di protesta all'interno del palazzo comunale all'origine della protesta delle oltre 40 persone e il mancato arrivo dei sussidi nel corso della protesta è stata anche simbolicamente occupata alla stanza del sindaco della città Angelo Graci sono ovviamente lieta che il governo abbia accolto il mio appello dei giorni scorsi ed abbia provveduto a riattivare i trasferimenti ma questo non basta la situazione è ancora emergenziale il centro il centro di accoglienza allo stato attuale può ospitare 250 persone oggi ce ne sono circa 600 rilancia così la sua richiesta all'istituzione il sindaco di Lampedusa Giussi Nicolini perché nonostante le partenze dell'ultima settimana il centro di prima accoglienza di Lampedusa permane una grave situazione di sovraffollamento e disagio per il sindaco la qualità dell'accoglienza deve diventare una bandiera di civiltà per Lampedusa e la sua comunità non voglio vergognarmi perché ammassiamo persone in modo indegno ha concluso il sindaco chiedo al governo in modo da rendere il centro sempre pronto ad accogliere i nuovi arrivi la Corte dei Conti premia la gestione straordinaria di Racalmuto con un parere il 14 dicembre scorso ha approvato la scelta di politica finanziaria della Commissione straordinaria di Racalmuto che ha permesso all'ente di evitare il dissesto finanziario la Corte dei Conti accogliendo con favore quindi la politica di risanamento voluta da tre commissari che amministrano il Comune ha deciso di sospendere la procedura di dissesto già avviata dando così fiducia al Comune dalla decisione di intraprendere il difficile iter di autorisanamento adesso la Commissione straordinaria può chiudere l'esercizio finanziario 2012 e cominciare a lavorare al bilancio del 2013 che non potrà esimersi da un generale riordino della macchina amministrativa e della finanza comunale che sarà decisivo nella storia amministrativa del Comune di Racalmuto per avviare un'azione preventiva contro l'evasione fiscale del mondo del sommerso in generale la Camera di Commercio di Caltanissette ha siglato ieri un protocollo d'intesa tra il Presidente Antonello Montante del Colonnello della Guardia di Finanza Pierluigi Sozzo Comandante Provinciale di Caltanissette oggetto del protocollo è l'accesso alla Banca Dati R-Visual contenente tutte le informazioni anagrafiche sulle imprese italiane e dei loro rappresentanti e le eventuali relazioni che essi hanno con altre imprese la Banca Dati ha commentato il Colonnello Sozzo consente di accrescere in modo determinante l'azione preventiva della Guardia di Finanza a garanzia del libero mercato e della trasparenza delle imprese l'accordo sottoscritto permette uno scambio di risorse nella direzione del contrasto all'abusivismo e dalla criminalità organizzata tutto a favore delle imprese sane si è svolto per il secondo anno consecutivo nell'unità operativa Hospice Clinica del Dolore dell'ospedale di Agrigento l'appuntamento con la tradizionale Novena dell'Amore all'appello dei registi Pippo Calandrino e Gianni Braceri promotori dell'iniziativa hanno risposto con grande entusiasmo numerosi artisti che hanno portato con la loro musica un momento di solidarietà e vicinanza a chi soffre Novità di quest'anno è stata l'adesione all'iniziativa dell'Iceo Classico Empedocle di Agrigento con il progetto Gli Infiniti Mondi dell'Amore fortemente voluto dal dirigente scolastico Anna Maria Sermen che dal docente Salvatore Conti lo scopo del progetto è quello di aiutare giovani ad interrogarsi sulle situazioni di disagio del territorio a riflettere su valori importanti quali la solidarietà la generosità l'aiuto e l'ascolto si terrà ad Agrigento domani nella sala Gianvecchina del Palazzo dei Filippini un incontro dibattito dal titolo Lotta alla mafia alla ricerca dei latitanti l'evento è organizzato dall'associazione antimafia di Agrigento Terra Nostra contro le mafie con il patrocinio del comune di Agrigento la manifestazione si articolerà in due parti la prima con la proiezione del documentario il boss senza pietà sulla storia e la cattura del latitante Gerlandino Messina la seconda parte invece sarà dedicata all'intervento e al dibattito sulla ricerca dei latitanti e dalle problematiche annesse all'argomento ultimi due appuntamenti dell'anno per il Canicatti calcio nel campionato di promozione oggi il recupero contro il Corleone e domenica contro il Salemi per la prima di ritorno due appuntamenti da non fallire per i Biancorossi il servizio due partite per chiudere il 2012 ma soprattutto per capire quale potrà essere il ruolo nella seconda metà di stagione che il Canicatti potrà avere nel campionato di promozione oggi contro il Corleone e domenica contro il Salemi la formazione di Mister Falzone all'opportunità di ridurre il gap con le squadre che la precedono in classifica rientrando in caso di doppio successo in piena zona playoff il match contro il Corleone recupero della tredicesima giornata non disputata due domeniche fa a causa dell'allagamento del Carlotta Bordonaro rappresenta però un ostacolo probante per i Biancorossi che si troveranno di fronte a una squadra ben organizzata nonostante gli ultimi risultati negativi lo sa bene il presidente del Canicatti Domenico Avarello che predica attenzione ed equilibrio dobbiamo cercare di mantenere alta la concentrazione ha dichiarato per tutti i 90 minuti dell'incontro cercando di essere più incisivi sotto porta vogliamo chiudere bene il 2012 per poi presentarci nel 2013 carichi e con una posizione di classifica più consono alle potenzialità della squadra rispetto a quella attuale e con lo sport si conclude l'edizione di oggi del nostro telegiornale grazie per averci seguito vediamo l'appuntamento alle prossime edizioni arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti